Tutte le città di mare hanno come caratteristica quello di vedere arrivare e veder partire delle persone. Il mare è anche un mezzo di comunicazione, attraverso il mare viaggiano le persone, viaggiano le merci e i porti diventano un punto di contatto. Non c'è giorno in cui non mi capiti di voltarmi e vedere un angolo particolare che non avevo visto o che mi era sfuggito. Stupirmi di quanto bello è un contatto con il mare sempre presente. Sì, essere una città che riceve i turisti è una grande opportunità e anche un po' di stress. Il problema principale che vediamo è la logistica e il traffico. Quando tanti di passaggiarci vanno dall'esterno, ci sono molti bambini, molti tassi. Questo implica alcune strategie per balanzare questi problemi con le opportunità che potrebbero essere creati con questa industria. La questione medioambientale è essenziale. Abbiamo di investire per una linea di sviluppo che sia sostenibile. Il progetto è un progetto di sostenibilità. Il primo passo per affrontare il problema è di sviluppo il LCTP. Il progetto cerca di promuovere il processo di partecipazione in ogni città. Ma potremmo trovare una soluzione che non aveva pensato a farlo con le loro. e l'altra parte è vero. La possibilità di usare, in modo modulare, la metodologia che è stata testata in queste città. E' un'opportunità di capitalizzare l'esperienza di sviluppo nel progetto. Io credo che le nuove generazioni abbiano già una convinzione molto più grande di quella che abbiamo noi di questa generazione. Secondo me siamo più noi da educare delle giovani generazioni. Io immagino una città più amico, verso i pedestali e i modi attivi di trasportazione. Più più persone nelle strade, invece di inizialmente. Basta lasciargli una piccola eredità in termini metodologici, ma hanno già dentro di loro quello che serve per avere un buon traguardo, per avere dei buoni obiettivi. Io voglio mantenere le giovani con l'identità, con la balanza tra il turismo e la vita comunale. E' importante che noi manteniamo questo. A presto. E' un'estimaio. Grazie a tutti